A B C è al Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo a Roma per la mostra ai Papi della Memoria, 31esima edizione della Mostra Europea del Turismo e delle Tradizioni Culturali. L'esposizione è dedicata alla figura di alcuni grandi papi e al loro ruolo sia di guida spirituale della cristianità sia di promotori culturali. Una selezione di un centinaio di documenti storici e capolavori d'arte provenienti dalle raccolte vaticane e da alcuni fra i principali musei di tutta Italia compone il percorso espositivo che si articola in sezioni tematiche che prendono l'avvio col primo giubileo, 1300 Boniface VIII, e si concludono con l'ultimo anno santo. L'esposizione di Castel Sant'Angelo La rassegna racconta come ciò che i grandi papi romani hanno progettato e creato sia diventato immediatamente materiale di esportazione e di costruzione spirituale per tutto il mondo. Questo in ogni tempo, ma soprattutto in quegli snodi fondamentali della storia della Chiesa, che sono i giubilei e i concili. E proprio testimonianza di questi passaggi chiave sono molti dei capolavori esposti, per lo più dovuti al mecenatismo dei protagonisti della storia della Chiesa. Tra i materiali in mostra, anche una selezione di opere recuperate dalle forze dell'ordine sottratte al mercato clandestino. La storia della Chiesa La mostra sarà a Castel Sant'Angelo, a Roma, fino all'8 dicembre 2012. La storia della Chiesa La storia della Chiesa La storia della Chiesa